è un po' che ha visto proprio non si è vista solo la camera si è vista anche un po' l'impriore sono andato su le dita sono andati qua perchè ogni donna va diverso la donna ne avrà visto le migliaia e ogni donna una non si possono dire niente ti dicono è il suo è il suo è il suo ma addirittura ti dicono vai su in ospedale che hai ricordato la piccola è presto signora dopo dieci minuti ti ricordi che lo fai